Domenica 16 aprile alle ore 18 nel Cinema de Seta, ai canteri culturali, si svolgerà uno spettacolo che noi abbiamo intitolato di solidarietà perché ha la finalità di sostenere un progetto umanitario che consiste nell'aiutare le donne incinde e i bambini malnutriti del Congo. Io mi riferisco a quel Congo la cui capitale è Brazzaville. In sostanza questo progetto sarà realizzato da Ale per Volare, il cui presidente è Rino Martinez. Lui è stato tantissime volte nel Congo e ha eseguito tantissimi interventi combattendo malattie e salvando la vita a numerosissime persone. Allora noi siamo qui perché noi vogliamo esortare le persone, quelle che ci ascoltano, a sostenere questo magnifico progetto umanitario perché secondo me è un dovere morale di ognuno di noi, se si sente cittadino, se si sente far parte della nostra società, di aiutare quelli che si trovano in stato di bisogno. Chi parteciperà a questo spettacolo avrà due opportunità, signori miei. Una è quella di godersi un relax di due ore e sentire cantanti, musicisti e anche dei comici. E l'altra opportunità importantissima è quella di concorrere, di contribuire per questo progetto umanitario.